Grazie professore, grazie a tutti per essere venuti oggi, benvenuti. Direi che la necessità prima ancora dell'opportunità di avere una nuova infrastruttura sia diventata un tema del dibattito quotidiano ormai, ma non solo a Roma e per la Roma, direi almeno in Italia, non a caso ci sono altri progetti in corso di realizzazione, mi vengono in mente quelli del Cagliari, del Bologna, del Frosinone, del Pescara, ne dimentico senz'altro degli altri. Questo perché è diventato fondamentale essere in condizioni di realizzare una struttura moderna in grado di offrire uno spettacolo adeguato a quello che sono i canoni internazionali moderni al proprio pubblico, alla propria comunità. È una struttura anche in grado di consentire una pianificazione di ricavi che sia appunto in linea con quello che è la competizione internazionale oggi. Immaginate, pensando a un'altra forma di intrattenimento, pensate al cinema, immaginate che in un mondo di multisala, avere una vecchia monosala con i seggiolini ancora allineati di legno rigido e reclinabili, senza aria condizionata o senza riscaldamento, senza Dolby Surround per sentire il suono moderno e senza un motore per la pellicola digitale. E evidentemente non potrebbe competere. Questo perché, tra l'altro, i ricavi di una società di calcio, parliamo di ricavi ordinari, quindi tralasciando quelli che sono i ricavi da trading di calciatori, possono essere, in maniera riassuntiva, riconducibili a tre voci, che sono i ricavi commerciali, quindi da sponsorizzazione e merchandising, i ricavi da biglietteria e i ricavi da diritti TV. In Italia, rispetto ad altri paesi, ad altre leghe concorrenti, questo mix di ricavi è già sbilanciato verso i diritti TV. Quindi c'è un'esigenza forte per poter competere, ma vorrei dire prima ancora per poter sopravvivere come calcio in Italia. C'è un'esigenza di riportare la gente allo stadio e di ribilanciare questo mix di ricavi. Ma addirittura una nuova infrastruttura ha un impatto indiretto anche sull'incremento dei diritti TV, anche se può sembrare controintuitivo. Spesso noi facciamo un esempio, mettendo a confronto le due leghe, la nostra è quella che in questo momento è la più comprata nel mondo, che è la Premier League. Se noi paragoniamo una partita del campionato italiano tipo Atalanta-Sassuolo con Stock City-Sunderland, probabilmente per contenuti tecnici e specificamente calcistici, Atalanta-Sassuolo ha un valore molto maggiore di Stock City-Sunderland. Ma se noi abbiamo un americano, un cinese, comunque qualcuno che nel mondo si trova davanti a due schermi TV che contemporaneamente trasmettono Atalanta-Sassuolo e Stock City-Sunderland, siamo certi che sceglierà la seconda, perché prima ancora di poter apprezzare il gesto tecnico o la validità tattica della proposta in campo, quello che viene percepito è l'immagine, l'immagine di uno spettacolo che è dato da una struttura idonea piena di spettatori, illuminata in maniera adatta alla ripresa televisiva con un terreno da gioco in perfette condizioni. Tutto questo che noi non riusciamo a riprodurre oggi negli stati italiani. Quindi per questo diciamo che è un'esigenza di sistema, prima ancora che è un'esigenza di ogni singola società di calcio, è un'esigenza di sistema tra l'altro perfettamente colta dal legislatore che ha di recente introdotto una nuova norma, una nuova legge, la 147, chiamata anche legge del Rio, legge sugli stadi, proprio al fine di facilitare la costruzione di nuove infrastrutture. Questo perché l'industria calcio è una delle industrie principali del Paese, ma anche a livello internazionale, è una delle poche, forse l'unica industria che è in crescita, quindi che continua ad essere anticongiunturale, probabilmente perché fa parte del comparto dell'intrattenimento. Per cui è essenziale riuscire a facilitare la crescita di questa industria anche in Italia. e la legge del Rio che ha intercettato il nostro progetto, perché la fase di ideazione, di prima progettazione del progetto Stato della Roma è precedente alla legge, ma ha potuto intercettarla e quindi in qualche modo costituire oggi il primo test reale del funzionamento di questa legge al fine di consentire in tempi certi l'approvazione della nuova infrastruttura. E noi confidiamo che debba essere un successo. Ovvio che non è banale costruire uno stadio, non è come piantare un vaso o una pianta nel proprio cortile, quindi è giusto che lo stadio, che è un oggetto ingombrante, sia calato in maniera idonea nel tessuto della città e che quindi possa in qualche modo diventare motore di una rigenerazione urbana nel luogo che viene scelto per essere realizzato. E quindi qui veniamo a spendere qualche parola sul perché si è scelta quel luogo. Ora, io mi porto spesso dietro un oggetto che farà la storia che è la storia di questo progetto, che è una grande cartina, ecco, grazie, che ha ormai, non so se può essere illuminata, ma comunque ha ormai 4 o 5 anni. Perché invece di semplicemente prendere una cartina e scegliere un'area e poi presentare un progetto all'autorità comunale, noi abbiamo deciso di percorrere una strada estremamente professionale, cioè abbiamo dato un incarico ad un esperto internazionale del real estate, la società Cushman & Wayfield, e gli abbiamo chiesto di aprire una procedura pubblica, nel senso che sono stati fatti degli annunci pubblici, ripetuti tre volte, per sollecitare la proposta di terreni idonei a posizionare il progetto dello stadio. Ne abbiamo ricevuti più di 120, ma alcuni erano sforniti della documentazione necessaria all'analisi, per cui ne rimasero 82. Vedete, sono 82 pallini in una grande cartina che va dal comune di Bracciano al comune di Fiumicino. Ora, di queste 82 aree, qual è il motivo per cui si poteva procedere a un esame? Ecco, qui abbiamo i criteri, li abbiamo elencati. Criteri ovvi, quindi che vanno dalla tipologia dell'area, l'accessibilità, la compatibilità col piano regolatore, gli aspetti morfologici di proprietà. Quindi, a valle di questo esame, che ha creato quindi una graduatoria da 1 a 82, ci siamo rivolti necessariamente all'autorità comunale. All'epoca c'era la giunta Alemanno, ci fecero parlare con l'ossessore all'urbanistica e quello ai trasporti, per vedere quali criticità tra le prime 12 aree elencate nella selezione, qualche criticità vedessero quali commenti avessero e arrivarono a dirci che le prime tre della graduatoria erano per loro tutte adeguate. Poi, però, la giunta cambiò e noi riproponemmo la stessa lista alla giunta Marino. Parlamo, guarda un po', di nuovo con l'assessore all'urbanistica e quello ai trasporti e il risultato dei loro commenti fu lo stesso e fortunatamente perché sarebbe stato strano il contrario, nel senso che gli uffici competenti avevano ovviamente la stessa idea e la stessa valutazione. Delle prime tre aree che erano quelle ritenute più compatibili, più idonee a immaginare un progetto del genere, una era effettivamente molto molto piccola, l'altra aveva quattro proprietari privati ed uno pubblico, per cui dovevano, era molto difficile riuscire a raggiungere la proprietà dell'area, tra l'altro l'area era divisa in due parti, in mezzo c'era un'arteria stradale, quindi un po' complessa dal punto di vista logistico, la terza era la più grande e gestita da un unico proprietario, ovviamente la nostra scelta è ricaduta su quell'area, ma una volta una volta quindi scelta l'area in questo modo e quindi con la collaborazione del Comune si è passata a una fase di progettazione con un'idea ben chiara che diventasse un progetto di livello internazionale proprio perché doveva diventare un progetto per la città di rigenerazione urbana. Sono state per anni al lavoro e ci sono ancora sul progetto al lavoro più di 500 professionisti che fanno parte di più di 50 aziende italiane e straniere e parlo di architetti, di ingegneri, di geologi, di economisti, eccetera, eccetera. Tra questi tre stelle dell'architettura sempre pensando a quello che può essere l'impatto nel futuro per la città. Quindi Dan Meese, Daniel Libeskin e Andrea Schipar che è una stella dell'architettura per quanto riguarda gli spazi verdi e i parchi. Sempre per lo stesso obiettivo. Ci deve essere una condivisione tra il progetto stadio e il contesto della città che lo va a raccogliere. Anche perché noi non la immaginiamo soltanto come una struttura per giocarci delle partite di calcio. Lo stadio avrà 52.500 posti di base espandibili a 60.000 eventualmente per renderlo disponibile per delle finali di Champions League ma sarà usato il catino dello stadio anche come anfiteatro per spettacoli per concerti per altro tipo di spettacoli per altri tipi di sport che ospiteremmo anche di natura internazionale ma abbiamo la possibilità di beneficiare poi di ulteriori spazi ad esempio la curva sud che è separata nel disegno dal resto del catino potrà essere un teatro da 15.000 posti anche qui per altri tipi di spettacoli e concerti c'è una cavea esterna che noi chiamiamo Spanish Steps perché l'architetto si è ispirato alla scannata di Piazza di Spagna che anche lì potrà dare luogo a spettacoli di intrattenimento eventi di intrattenimento per 5.000 persone ci sarà un centro congressi insomma deve diventare nel nostro obiettivo un cuore pulsante per la città che vada a mettersi in concorrenza con tutte le altre strutture di questo tipo in modo da poter competere per tutto il sud Europa ad attrarre eventi internazionali vi faccio vedere giusto qualche immagine di quello che stiamo elencando fino ad oggi concludo con quello che sono tornando al tema ricavi gli effetti economici per la società ora questa è una slide che ha tre esempi il passaggio dal vecchio al nuovo stadio per il Bayern Monaco e per l'Arsenal risalgono entrambi al 2006-2005 2006 il Bayern 2006 Arsenal hanno portato ricavi come vedete pari al 57% anno su anno ricavi da stadio per il Bayern di Monaco più di 100% per l'Arsenal ma vedete cosa è successo in Italia con il più recente e l'unico benchmark italiano nel nuovo stadio della Juventus che ha portato ad un incremento che si avvicina quasi al 200% più 165% ricavi da stadio anno su anno a beneficio della squadra di calcio bene questo è quello che ci attendiamo come ritorni sulla squadra sulla società lasciamo poi la parola all'università per raccontarci quello che ci aspettiamo come ritorni sulla città grazie grazie grazie